Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Dopo un periodo di incertezza dovuto alla carenza di imprese sempre più impegnate, soprattutto nei cantieri del bonus 110%, che aveva creato una situazione di stallo preoccupante, è finalmente ripartita la ricostruzione nelle aree del sisma. Grazie anche agli ultimi provvedimenti del commissario straordinario Giovanni Lennini, che ha aggiornato il prezzario e ha garantito i finanziamenti delle pratiche presentate per gli interventi di ristrutturazione. Ad Acqua Santa l'edilizia privata è a buon punto, tanto che anche la gran parte delle strutture ricettive della zona sono state quasi tutte recuperate. Una situazione che a quasi sei anni dal terremoto fa trapelare un cauto ottimismo nel sindaco del comune termale, anche in vista della prossima stagione estiva. Abbiamo attraversato dei momenti bui sulla ricostruzione, come sanno tutti. Devo dire che adesso per quanto riguarda la ricostruzione privata, e parlo almeno per quello che è il mio territorio, non ci possiamo lamentare. Anzi, stiamo avendo tanti cantieri aperti. Abbiamo avuto anche nei mesi precedenti delle attività di ristorazione e ricettive che sono tornate alla loro agibilità. Quindi oggi devo dire che per quanto riguarda il comune di Acqua Santa Terme, a parte Castel di Lugo, dove stiamo aspettando l'inaugurazione e la fine dei lavori, per quanto riguarda le altre strutture, sono tornate tutte agibili. Quello è fondamentale perché stiamo arrivando al periodo estivo e quindi dove c'è un flusso maggiore di turismo. Una importante accelerazione ci sarà anche per la ricostruzione pubblica, con le opere che a breve saranno cantierabili, come il recupero dell'antico impianto termale e il municipio, che verrà demolito per poi essere ricostruito. Le opere pubbliche hanno avuto purtroppo dei rallentamenti dovuti alla burocrazia, che ha costretto purtroppo un po' tutti gli enti pubblici a perdere anni dietro a queste opere. Per quanto riguarda Acqua Santa, noi saremo in estate, sono sicuro, ormai manca poco, che ci sarà l'avvio dei lavori per quanto riguarda la piscina e grotta sudatoria, fondamentale per Acqua Santa, ma un po' per tutta la vallata. Poi procederemo anche con la demolizione della scuola, che purtroppo è risultata inagibile. Stessa cosa sarà per il municipio e stessa cosa per il teatro combattenti. Io voglio essere ottimista, per settembre e ottobre avremo sicuramente tutte queste opere che sono partite e cantierati.